pronto buongiorno alice buongiorno paride ho pensato una cosa il genio pensa mi devo preoccupare ho pensato a dove portarti stasera e allora non tenermi sulle spine non te lo dirò mai è una sorpresa non ci credo ancora che abbiamo il nostro primo appuntamento sì fa un po' strano anche a me in effetti ci divertiremo e dopo stasera non potrai più fare a meno di me anche meno a che ora ci vediamo alle otto e mezza ok forse è meglio alle nove ok passo a prenderti io perfetto buona giornata anche a te a dopo ciao